casa generale derby di coppa italia noi come al solito a casa generale siamo sempre presenti il pronostico si parte da milito 1 a 0 1 a 0 passa l'inter generale 2 a 1 2 a 1 passa l'inter evviva ma naturalmente si spera si spera vi invitiamo anche scaricare quanto tutto mamma mia proprio esattamente quell'app gratuita che vi permette di essere da stare aggiornata sempre su tutti il mondo del calcio esatto calcio mercato e poi personalizzabile fatto un po il generale la scaricata giusto è giusto tanto è creato scaricata anche voi link in descrizione forza inter tradici sbagliata una spazzetta una vita proprio bella pozzo stasera se quando ho toccato la dicione una colchina dolce sino c'è teo hernandez si gira il cross dalla parte posta a cercare con una piccola con un coppio tra chiun d'ias almeno sul fondo pericoloso il bilan ce l'ha ce l'ha che cosa fai? un portiere ha guardato da fuori c'è soffiata da fuori generale dalla termina ciao mamma mia ma è questa gentola? non c'è forza sai che apparato che ha fatto da Rossello mentre si gira Ibrahimović pensa alla conclusione Ibrahimović la tolta Ibrahimović ma partiamo ci muovere le dico ci muovere le dico ci muovere le dico fai partiti in un e poi te lo... da qua la sentiamo in più E' la miseria porca ladra oh un pericolo enorme tolta Ibrahimović mamma mia mamma mia cazzo mamma mia cazzo mamma mia cazzo lukaku ha infuriato lukaku ha infuriato continua a discutere con gli avversari adesso guadagna l'uscita punta Ibrahimović guardate lukaku punta salta Ibrahimović che dice ci vediamo nel sotto passaggio è una scelta bruttissima bruttissima nervosismo alle stelle in questo derby che era filato liscia fino al quarantatresimo che ne imbattiamo la generazione di Ibrahimo mi fangerei congiuno Sanchez che si perfeziona i cross Sanchez mannaggia la mi serio porca puttana si è la stessa partita che abbiamo fatto quante volte che abbiamo perso una sera si tira tira arriva velocissimo Hachimi controllo di Hachimi carica il destro mannaggia ma quante volte c'è la barra la porta per far golla è gialla che trovo? ma vai a casa a casa a casa a casa a casa vai a casa a casa vai a casa tira tira ma non ridi più non ridi più ma adesso non ridi più vado mai bene il dicesimo minuto del secondo tempo lascia il terreno di gioco sul secondo paro il colpo di Tavoli mannaggia la mamma e sede mannaggia la mamma e sede oh porca puttana ritorno ho fatto i guarnati manca a pita E' la madonna, nettissimo, e vai cazzo, e vai, bellissimo, e eccolo qui, qui si vede bene, Sia! LUCACONE! Gesù Cristale è chiettata fuori C'è un apparonato da Natal per lui Si è partito da Fortuna o Sfortuna? Sfortuna che abbiamo perso Sicurissimo, c'è l'unice La rinuncia dalla partita Ma non vedi questo Sono tanto finale 2-1 Non hai fatto 2-1 Muoma i perosci Muoma i perosci Muoma i! Dai 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 Non l'abbiamo possibile! C'è chi ha fatto questo guardo sul portiere? E pronto Ericsson! Padre Ericsson! Cristian! Ericsson! Ericsson! Cristian! Ericsson! Piante! Mamma mia! Facciamo Luca! Mamma mia! Bella, bella, bella! Uno che tira! Finalmente uno che tira! Finalmente! Lo facciamo standare la panchita! E vai! Sì! 2 a 1 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 Grazie a tutti